Lasciate centrare presidio al centro di Pian del Lago. Commercianti, avviato dialogo con il comune per rivitalizzare il tessuto economico della città. La seconda commissione consigliare effettua un sopralluogo al cimitero Angeli. Fare giustizia di comunità, incontro al consorzio universitario di Caltanissetta. Covid, il punto della situazione. 238 positivi nel Nisseno, 68 a Caltanissetta. Visita del generale di corpo d'armata Riccardo Galletta, comandante interregionale dei Carabinieri, al comando provinciale dell'arma di Caltanissetta. Appena giunto nel capoluogo, il generale Galletta, che ha già ricoperto l'incarico di comandante della Legione Sicilia per più di tre anni, tra il 2015 e il 2018, è stato ricevuto dal prefetto Chiara Armenia, con la quale si è trattenuto per discutere dell'attività svolta dall'arma e della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia. Il generale ha poi incontrato i carabinieri del comando provinciale nei locali della caserma Guccione, per tracciare un bilancio dell'attività svolta dal corpo nel Nisseno, con particolare attenzione alle inchieste Icarime e Chimera, con le quali si è fatta luce rispettivamente sull'attività di un gruppo criminale nigeriano che gestiva lo spaccio nel centro storico di Caltanissetta e sulle dinamiche mafiose del clan mazzarinese Stigiaro dei San Filippo. Il comandante Galletta si è successivamente recato a Palazzo di Giustizia, dove ha incontrato il presidente della Corte d'Appello Maria Grazia Vagliasindi, il procuratore generale facente funzioni Antonino Patti, il presidente del Tribunale Daniele Marraffa e il procuratore capo Salvatore De Luca. Chiusura dei centri di accoglienza e tagli alla burocrazia per facilitare l'ottenimento dei permessi di soggiorno ai migranti. Sono le richieste dei rappresentanti di Lasciate Centrare, un movimento che da 11 anni chiede non solo la chiusura dei centri per i migranti, ma anche maggiore trasparenza sulla gestione di questo tipo di strutture. Stamattina è stato organizzato un presidio davanti al centro di Pian del Lago e i componenti di Lasciate Centrare sono tornati a far sentire la propria voce, ponendo anche l'accento su presunti abusi nei confronti dei migranti da parte delle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi si è verificato un tentativo di fuga proprio dal centro di Caltanissette ed erano state diffuse anche in quell'occasione notizie in merito a presunti abusi, ma la questura aveva smentito tali circostanze. Il presidio nasce, alcune realtà sono lasciate centrare, Bordenale Sicilia, Rete Antirazzista Castanese, Darci Sicilia, per denunciare i lager e in particolare i lager. di Caltanissette, il CPR, il centro di detenzione di amministrativa, perché per noi sono luoghi di ingiusta detenzione, di abusi e di violenza contro le persone migranti. Ci sono state delle proteste, ci sono state delle denunce relative a non assistenza, relativa in particolare a violenza da parte delle forze dell'ordine che dovremo ovviamente appurare. Noi siamo accanto ai reclusi che combattono ogni giorno contro questo tipo di galere, dove entrano soltanto perché non sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno. La soluzione è chiudere i CPR, noi non vogliamo una forma di detenzione né di criminalizzazione delle persone migranti e chiediamo una regolarizzazione per tutti, documenti per tutti, la possibilità di vivere degnamente per tutte le persone. Questa è la soluzione. Con l'amministrazione comunale abbiamo avviato il dialogo e data la nostra disponibilità a concordare soluzioni mirate e a rivitalizzare il tessuto economico della nostra città. Il centro storico rischia la desertificazione se non verranno fatte scelte urgenti e coraggiose. Queste le affermazioni del presidente della delegazione comunale Comcommercio della città di Caltanissetta, Michele Lorina, in merito al futuro delle attività commerciali del centro storico Nisseno. Si preannuncia infatti a tal proposito un incontro per discutere e confrontarsi sulle possibili soluzioni e proposte con l'amministrazione comunale, così come confermato anche dalla vice sindaca grazie a Gian Musso, ribadendo l'apertura al dialogo. Il nuovo direttivo infatti sta concentrando la propria attenzione sulle criticità del settore e da discutere con gli organi competenti. Siamo pronti a scrivere una nuova pagina di sindacato, esclama Lorina, al servizio delle imprese del territorio che continuano ancora a fare conti con le grandi difficoltà che soffocano i comparti del commercio e del turismo. Parla di un gruppo dirigente e coese qualificato, il presidente Lorina, quello che guida la delegazione locale della Comcommercio Caltanissetta e Enna. La realtà ennese infatti ha esteso i suoi confini, creando una rete associativa con gli imprenditori di Caltanissetta, non per annettere, sottolinea Lorina, ma per costruire. E dopo la pandemia e l'aumento dei costi diventa cruciale parlare di unione. Mai come adesso è importante che la categoria dei commercianti sia unita sotto legge da di Comcommercio, sottolinea il presidente Michele Lorina, affinché si possa dare voce alle variegate esigenze, si abbia un unico e qualificato interlocutore con la pubblica amministrazione e si possa affrontare compatti e solidali alla fine dell'emergenza. Chiederà un incontro all'assessore Arrama in presenza anche della direzione competente, la seconda commissione consigliare che si occupa di urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture, viabilità, trasporto, edilizia residenziale pubblica e privata e illuminazione. La questione questa volta riguarderà il cimitero Angeli di Caltanissetta ed in particolare la sezione interessata dal sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dalla stessa commissione, a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini che lamentavano l'impossibilità di accedere nella zona e portare dei fiori ai propri cari defunti. Mi riferisco a una sezione, la 262 bis, nello specifico, dove c'erano delle transenne che impedivano questo accesso. Effettivamente le transenne sono state messe a tutela e a garanzia del cittadino perché le soffitta di questo, chiamamolo tunnel, ma è un corpo interrato di un fabbricato, all'interno di questo tunnel ci sono i soffitti che sono ormai in uno stato veramente di pericolo perché gli indoneci caduti ma addirittura anche le pignatte sono scoppiate e quindi è chiaro che è pericoloso poter fare fruire le persone cittadini. Era presente l'architetto armatore che è praticamente il direttore dei servizi cimiteriali e mi ha detto che chiaramente non è una spesa, non è un intervento che possiamo subordinare a una ordinaria manutenzione. Quindi contiamo di sentire il dirigente e l'assessore a ramo dei lavori pubblici perché si espleti una perizia in modo tale che si faccia luce e si cerchi di risolvere questo problema. Fare giustizia di comunità è questo il titolo dell'incontro organizzato in città nel pomeriggio di mercoledì 29 giugno dalla Scuola Superiore della Magistratura di Caltanissette insieme all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna Caltanissetta Enna al mondo dell'Avvocatura Nissena e dunque la Fondazione Scuola Forense e con la collaborazione del Consorzio Universitario Nisseno che ha ospitato l'evento. Tra i relatori, i rappresentanti delle istituzioni, i docenti universitari, i magistrati e i avvocati per discutere di giustizia e di quella di comunità in particolare, di sanzioni sostitutive, riforma cartabbia ma anche di prevenzione di pubblica sicurezza. Parliamo di riforma cartabbia, parliamo di probation, parliamo di sanzioni sostitutive nuove che provengono anche dalla magistratura di cognizione, parliamo di un nuovo modo di fare giustizia lontano appunto dalla spada e dalla bilancia, almeno non è solo quello ma è una giustizia diciamo che vuole ricercare un equilibrio tra le parti quindi l'obiettivo dell'inclusione è l'obiettivo di ricucire un patto con la collettività affinché queste persone che rompono trasgredendo una regola abbiano un'opportunità di farsi protagonisti attivi di un recupero del bene comune e questo lo si fa attraverso la collaborazione di tutti quanti secondo appunto quello che oggi definiamo un approccio multiagency dove ognuno di noi fuoriesce un po' dal perimetro delle proprie competenze per individuare un bene comune collettivo che appunto incrocia e annoda tutte le parti della comunità proprio per un fare giustizia di comunità Questo è uno dei tanti convegni che vengono organizzati presso il Consorzio Universitario così come è stato fin dall'inizio data questa ampia disponibilità chiaramente questo è un argomento, la giustizia di comunità assolutamente interessante tant'è che la dottoressa Provenzano che è l'organizzatrice di questo convegno ha invitato un parterre di relatori di grande livello e la finalità della riforma cartabbia è quella di rendere più risocializzante la misura alternativa quindi il tema di questo convegno è legato proprio a fare delle riflessioni in merito alla risocializzazione e al reinserimento L'assessorato regionale alle attività produttive ha concesso un contributo a fondo perduto di 3.700 euro per 319 piccole imprese che fanno parte del gruppo di azione locale Terre del Nisseno Il contributo è stato concesso alle imprese in possesso di speed e firma digitale con meno di 10 dipendenti, con un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro e con regolarità contributiva In particolare il contributo è destinato alle realtà produttive impegnate in attività manifatturiere trasporto e magazzino, servizi di alloggio e ristorazione, servizi di informazione e comunicazione noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento e del settore turistico Si tratta di fondi rimodurati dal GAL Terre del Nisseno destinate alle azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo per una cifra totale di 1.200.000 euro indirizzata sotto forma di contributo a fondo perduto per le piccole imprese penalizzate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 La notizia è stata accolta positivamente dai componenti del CDA del GAL Gianfranco Lombardo, Giovanni Manduca, Luigi Tricoli, Giuseppe Catani e Salvatore Noto che si sono espressi favorevolmente nei confronti dell'assessorato regionale del dirigente del servizio Vincenzo Larosa dei sindaci dei 17 comuni appartenenti al GAL e al direttore dell'ufficio di piano del GAL stesso, Giuseppe Ippolito Sono 95.455 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in tutta Italia con il dato per la Sicilia che si attesta a 7.128 nuovi casi In provincia di Caltanissetta diminuiscono leggermente i nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore rispetto al dato precedente con un riscontro di 238 pazienti che hanno contratto il virus tutti in isolamento domiciliare con 68 pazienti a Gela, 53 a Caltanissetta, 24 a San Cataldo 23 a Niscemi, 16 a Serra di Falco, 12 a Mussomeli, 9 a Riesi, 6 a Milena 5 a Sommatino, 4 a Mazzarino, 3 a Campofranco, 3 a Delia, 3 a Sutera 3 a Vallelunga Pratameno, 2 ad Acquaviva Platani, 2 a Butera e 2 a Santa Caterina, Villarmosa Risulta deceduto un paziente di Caltanissetta Dalla degenza ordinaria sono stati dimessi un paziente di Serra di Falco e un paziente proveniente da fuori provincia Sono invece guariti 43 pazienti di Caltanissetta 31 di Gela, 6 di Mussomeli, 6 di Niscemi, 6 di San Cataldo 4 di Campofranco, 3 di Butera, 2 di Montedoro 1 di Santa Caterina, Villarmosa e 1 di Villalba Si parla di fondi PNRR rivolti alle scuole per contrastare la dispersione scolastica circa 4,7 milioni di euro in una nota del circolo PD Guido Faletra e della segreteria provinciale del Partito Democratico in cui a tal proposito vengono elencate anche delle proposte per il contrasto della povertà educativa e invitati i comuni della provincia a rivolgere l'attenzione verso questo fronte Le proposte riguardano la promozione di patti educativi territoriali che coinvolgano l'amministrazione e che consentano di aprire gli istituti scolastici al territorio al mondo associativo e alle realtà produttive si legge il rafforzamento del servizio sociale locale attraverso l'assunzione di figure professionali psicologi, assistenti sociali, assistenti sanitari, educatori sociosanitari e socioeducativi assegnate a dare prioritarie di intervento territoriale e atte a promuovere un servizio socioeducativo di prossimità includendo a pieno, si legge ancora, le famiglie vulnerabili ed in particolare quelle con retroterra migratori e con bambini portatori di disabilità e ancora propongono di ampliare il numero di posti disponibili negli asili nido attraverso le risorse economiche eccezionali appositamente stanziate dalla legge di bilancio 2021 precisano per il quinquennio 2022-2026 un progetto maestranze 4.0 che rafforzi il legame tra la manifattura del territorio e le realtà formative promuovendo l'innovazione, la digitalizzazione e l'alta formazione professionale anche attraverso la realizzazione di un istituto di formazione tecnica superiore un pacchetto di misure dedicate all'università concludono e volta di implementare i servizi per gli studenti dei corsi di laurea attivi in città dal trasporto pubblico gratuito all'apertura serale della biblioteca passando per la realizzazione di laboratori di ricerca in collaborazione con le imprese del territorio Amici di Trebi Meteo un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per giovedì 30 giugno Prevalgono condizioni anticicloniche sul Mediterraneo e sull'Italia per la presenza dell'anticiclone africano mentre vedete come infiltrazioni di area più umida atlantica vanno a interessare l'Europa centrale e sfiorano anche le Alpi tra giovedì e venerdì portando qualche disturbo per quanto riguarda la nuvolosità attesa nella giornata di giovedì ritroveremo un'Italia per lo più sgombra da nuvolosità significativa soltanto qualche velatura di passaggio e degli annuvolamenti in arrivo dal pomeriggio sui settori alpini dal punto di vista della previsione quindi tanto sole su gran parte delle nostre regioni in questa giornata di giovedì soltanto sulle Alpi possibilità di brevi temporali pomeridiani in particolare sui settori più settentrionali da segnalare però un callo delle temperature anche al centro-sud il clima sarà sia estivo, caldo ma senza gli eccessi dei giorni scorsi non si andrà oltre i 34-35 gradi con questo è tutto per maggiori dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno Buonasera, via Edmondo De Amicis Servizio notturno Pantano, via Domminzoni Buonasera, via Domminzoni